Buongiorno a tutti Sfida settimana 7 di Fortnite Delle sfide avventure di Sky La sfida ci dirà di cercare delle casse nelle basi spia In questo video faccio vedere la mappa completa E devo trovare tutte le basi spia per la mappa E come completare la sfida Completare la sfida basterà andare in queste basi spia Che adesso vi metterò alla mappa Le basi spia sono quelle degli spettro per le ombre Che sono difese dagli scagnozzi E si trovano in giro per la mappa Ce ne sono davvero tante Adesso vi metterò come già detto la mappa Basterà entrare e aprire 7 ceste Ci vorranno una o due partite per farla Dipende da quante ceste riuscirete ad aprire una volta che sarete entrati Ecco la mappa di dove trovare tutte le basi spia Posso trovarla alla stazione meteorologica A Pleasant Park A Parco Pacifico Vicino Fattorie Vicino Siepi E vicino E vicino Brughiere Brumose Queste sono le 5 basi degli spettri O delle ombre Basterà atterrare qui Come già detto E aprire 7 ceste Ci vorranno una o due partite E la sfida sarà completata Quindi Molto molto semplice Se il video ti è piaciuto Lascia un bel like Iscriviti al canale Attivando la campanella E condividi il video Tutti i tuoi amici Almeno anche loro sanno Come Completare la sfida E Noi ci vediamo A un prossimo video Grazie